Buonasera, come vedete mi ritrovate di nuovo qui. Adesso siamo a prendere in scena a Ravanous, siamo al terreno più caro il Voetilia. Bellissimo. Vi è andata benissimo, speriamo anche stasera. Il pubblico è caloroso, vabbè però scusi, ma che mi chiedere, sbagliavo. Vabbè basta. Se solo immaginate voi che bordello, che bordello ragazzi. guarda quando tornano le vie prossima mente prossima mente non è un condor amicato di navatta che cosa devo fare in campo bellezza? io non mi apri uovo guardate le sere delle le sere delle mi apri uovo non mi apri uovo non mi apri uovo ogni tanto faccio anche io la femminuzza mi fanno truccare, mi fanno mettere l'orecchina ma quando la lasciano? e truccano ah! non si chiamano miliagrammi si chiamano miliagrammi guarda l'anno scorso l'ho distrutto ecco guarda la prova e quest'anno ho avuto di nuovo come ogni microfono tu vai spacciando tutti i microfono prima tu siete tu siete tutto l'uomo guarda bravo nei video che ho pubblico. Ancora lo devo capire, comunque, diciamo anche solo a me, capito? In primo piano solo a me. Mi chiesto vestiti della crescima di mamma te. È troppo bello! Solo che mamma te mi disse che ce lo stai di studiando. Tra le quattro serate di gennaio, mi chiesto mi disse che ce lo stai di studiando tutte le cose. Se ne può? Non se ne può. Non se ne può secondo me. Non se ne può, studiamo. Stiamo per incominciare. Come vanno in sicurezza? Di giuro alla balena, merda, merda, merda! A questa carriacata, a questa carriacata, a questa carriacata, a questa carriacata, merda! Un bel, insomma, non per la merda! Un bel, insomma, non per la merda! Un bel, insomma, non per la merda! Un bel, insomma... Che so, insomma, non per la merda! Anche su, insomma, non per la merda! Non per la merda! Prima degli speppacoli dovete sapere che io sono un po' così nervosetta e che, appena mi dicono mezza cosa, comincia a rispondere male a tutti! Tutti 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 tutti! Basta! Consolatemi! No, ma si fa più partire da mano, che non è così possibile, non è così! Quando mi tocca so bere, manco se li mi pagassero non ancora! che portello non parlo buona veramente buona questa attesa è un po' snervante però scarichiamo in questo momento ho percorso circa 27 chilometri non si salga la luce di Diorio che vesteva come un cuore ciò ci sono belle a un momento so che si andranno le cose e faccio le camminate e faccio il cioccoli diciamo tutti gis gis ma tu lo posso finire ma basta grazie a tutti